Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Conte, la questione della firma o non firma del memorandum di intesa con la Cina, detta anche Via della Seta, ha tenuto banco nelle ultime settimane ed ha coinvolto tutti gli attori della politica italiana in un sano dibattito sul futuro delle relazioni internazionali del nostro Paese sul ruolo dell'Italia e all'interno dell'Alleanza Atlantica. Per noi e per il nostro gruppo la firma del memorandum di intesa rappresenta un'importante opportunità di sviluppo commerciale del nostro Paese. La Cina sta effettuando un percorso di trasformazione economica e sociale interna che sta portando l'emersione di una classe media corposa ed un aumento della domanda dei prodotti europei. È nostro dovere, Presidente, per il bene del nostro Paese intercettare questa domanda e aumentare la quota di esportazione italiana verso il mercato cinese. Ci tengo particolarmente a sottolineare, Signor Presidente, che l'Italia esporta in Cina prodotti e beni per 13 miliardi l'anno, una quota di esportazione irrisoria se confrontata all'interscambio commerciale che gli altri Paesi europei hanno con il Paese asiatico. Faccio due esempi. La Francia ha esportazioni in Cina per un valore di 20 miliardi l'anno. La Germania esporta beni e prodotti per ben 87 miliardi annui. Ci chiediamo allora se l'Unione Europea e gli Stati membri che stanno criticando questo memorandum non temano in realtà una sana competizione con il nostro Paese. Sana competizione che vede nel made in Italy, nel mercato agroalimentare e in quello del lusso, dei beni fortemente richiesti della crescente domanda proveniente dalla Cina. L'obiettivo del Governo e l'intesa sul memorandum, ne è la riprova, è quello di attirare investimenti sicuri per il nostro Paese. Anche in questo caso sono i numeri che ci dimostrano un enorme squilibrio all'interno degli Stati europei. Nel 2018, dei circa 50 miliardi di dollari che la Cina ha investito in Europa, la Gran Bretagna ne ha assorbiti la metà. La Germania si è aggiudicata a una quota pari al 22%, molto superiore a quella dell'Italia, stimata intorno a 15 punti percentuali. Un trend? Questo, che questo Governo si impegna a cambiare e che dimostra come sulle politiche commerciali l'Unione Europea è ben lontana da avere un approccio sistemico. Ci fa sorridere, signor Presidente, i timori che arrivano da Bruxelles e che riguardano la possibile comparazione tra la situazione dei nostri porti di Trieste e di Genova e quello del Pireo in Grecia. Voglio ricordare che la Grecia è stata costretta a svendere il proprio patrimonio pubblico proprio perché è lasciata sola da quell'Europa che con le folli politiche di austerità ha devastato il tessuto industriale della Grecia stessa. L'Italia e questo Governo, come ribadito più volte in queste settimane, non hanno nessuna intenzione di svendere il patrimonio pubblico e le nostre infrastrutture strategiche. E questo ci tengo a ribadirlo a nome di tutto il gruppo affinché sia chiaro. L'Italia non svenderà mai nessun asset strategico. Per concludere rispondo all'ultima critica che si è sentita in questi ultimi giorni e lo faccio ribadendo con forza il concetto già espresso nel corso di queste settimane. è confermato da tutte le azioni che questo Governo ha effettuato. L'Italia rimane saldamente ancorata all'Alleanza Atlantica che rappresenta la cornice naturale del sistema delle alleanze del nostro Paese. È uno strumento di assoluta importanza in termini non solo di sicurezza ma anche di integrazione e cooperazione militare europea. Questo Governo si è dimostrato uno dei principali alleati degli Stati Uniti e non sarà questo accordo commerciale che rientra nel perimetro dei principi di cooperazione economico-commerciali presenti in tutti i documenti europei a modificare la naturale alleanza con Washington e ad allontanare l'Italia dal blocco occidentale e dall'Alleanza Atlantica. Concludo, Signor Presidente, confermando quanto detto nel mio discorso. L'obiettivo principale del nostro gruppo in merito all'accordo in questione è quello di investire sul rilancio del Made in Italy, di conquistare maggiori quote di un mercato, quello cinese, che rappresenta già uno sbocco importante per le esportazioni di altri Stati membri. L'Italia non fa altro che competere lealmente per sviluppare le proprie relazioni commerciali. Siamo sicuri che questo sia un bene per il nostro Paese e allo stesso tempo manteremo alta l'attenzione sugli investimenti e la difesa delle nostre infrastrutture. Il nostro continente che si trova proprio in mezzo a due giganti è stato e sarà la culla della democrazia, del commercio e del turismo. Ma oggi si riprende l'opportunità di non subire finalmente le scelte altrui. Grazie.